Oggi è la giornata della donna, di una in particolare, Fabiola Bacci, mamma di Jennifer Serrecchini, una ragazza uccisa dal fidanzato a Pescara, donna speciale, la nostra forza. Noi questo giorno lo vogliamo dedicare a tutte le donne del cielo, uccise per mano di carnefici, come Anna, mia sorella, Jennifer e tante altre. I nostri giorni persi dalla vostra assenza, ormai tutto ciò che mi rimane sono solo ricordi, i nostri vestiti ormai bagnati dalle nostre lacrime. Vogliamo lanciare un messaggio, basta violenza sulle donne, non servono mimose, ma rispetto, le donne sono fatte per essere amate.